Mi sento tutte le articolazioni deboli e ultimamente soffro spesso di nausea. Forse è troppo esercizio, faccio maratona una decina di chilometri al giorno, ma non mi sembra di perdere peso. Ah, sollevi le braccia. Quello che ha lei è un parassita. Oddio, tipo il verme solitario. Si stende e si tiri sulla maglia. Metta giù le braccia. Lei può riuscire ad eliminarlo? Soltanto entro un mesetto, più o meno. Dopodiché la legge proibisce di rimuoverlo, salvo in un paio di stati. La legge? Ma niente paura. Molte donne imparano ad abbracciarli, questi parassiti. Gli danno un nome, gli mettono dei bei vestitini, li portano al parco con altri parassiti. I vestitini? Ai suoi occhi.